il momento felicità ragazzi iniziamo subito stamattina qua c'è il vasco il momento felicità me lo sono fatto da solo guardate cosa mi pampo guardate cosa tac uova strafazzate col bacon pane tostato marmellata cappuccino con il caffè leofilizzato fatto da me tra poco per la recensione mazzotti come dire la colazione era tanta tantissima roba ragazzi tantissimo un dappador 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Felicità, guardate dove stiamo andando, guardate. Momento felicità. Felicità. Oggi a pranzo, zuppa di Aragosta, ragazzi. Tanta, tantissima roba. Poi vi farò sapere com'è. Guardate che bel piatto mi hanno portato. E dire che la zuppa di Aragosta era tanta, tantissima roba, ragazzi. E dire che la zuppa di Aragosta è un po' di più. La matriciana sta pippando. Vi ricordo, penultimo giorno. Domani mattina partiamo alla volta di Keflavik. Domani sera gireremo per Reykjavik. Quindi vi manderemo praticamente domani il penultimo video. E dall'Islanda, un saluto a tutti. Ciao. Eh sì, non c'è anche questo. Fatta la pasta, casca la torrente. Ma non ci perdiamo, dai. Con la matriciana fumante nel piatto. Un saluto a tutti. Ciao.